Musica Violento impatto sulla 19 morti padre e figlio. Sit-in di protesta dei dipendenti del lato CL1. 160 grammi di hashish sequestrati e un giovane di Caltanissetta denunciato. Con un'ascia irrompe in un supermercato, arrestato un gelese, rapina in banca ad Agrigento, 88 mila euro il bottino. Aveva coltellato l'ex suocero, arrestato un giovane di Niscemi, sei arresti in provincia di Agrigento. A Caltanissetta evento Bain, corso di neuroradiologia e sempre in città, Pompieropoli 2015. Questi i principali titoli del nostro telegiornale a tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. Incidente mortale questa mattina sull'autostrada Palermo-Catania, sul viadotto Irosa tra Resuttano e Tre Monselli, a perdere la vita due camionisti, padre e figlio, Vincenzo e Francesco Sciret, di 63 e 31 anni, di Gangi. Il loro camion, che trasportava frutta e verdura, si è scontrato su un tratto rettilineo con un furgone Fiat Ducato della ditta di spedizioni Bartolini. In seguito allo schianto tra i due veicoli, Sciret ha perso il controllo del camion sfondando le barriere di sicurezza lungo l'autostrada e precipitando al di sotto del viadotto. Un volo di 20 metri ed uno schianto che ha trasformato il mezzo pesante in un groviglio di lamiere. I corpi di padre e figlio sono rimasti intrappolati nella cabina di guida, ma entrambi erano già senza vita quando sono stati estratti dai vigili del fuoco e dai soccorritori del 118, partiti dalla eli superficie del Sant'Elia di Caltanissetta. Il leso il corriere che si è salvato perché al momento dello scontro è riuscito a scendere dal mezzo che è stato sbalzato una decina di metri più avanti. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Caltanissetta, coordinata dal dirigente Maria Grazia Milli, impegnata nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del violento scontro. Tre uomini con il volto scoperto e armati di taglierino hanno rapinato la banca a credito cooperativo agrigentino di Piazza Primavera nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento. I tre minacciando i cassieri si sono fatti consegnare tutti i soldi che c'erano in cassa, 88 mila euro, poi si sono allontanati. Sono in corso indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile per tentare di risalire ai responsabili. Sit-in di protesta questa mattina davanti la prefettura di Caltanissetta dei dipendenti del lato CL1, i particolari in questa intervista. Sit-in di protesta questa mattina davanti la prefettura di Caltanissetta dei dipendenti del lato CL1. Quali sono le ragioni del sit-in? Le ragioni già credo siano a conoscenza di tutti perché è da quattro mesi che siamo senza stipendio. Ci hanno usato come una pallina di pinky pong. Siamo stati a parlare con il nostro liquidatore, dottoressa Incala. Siamo stati a parlare con il commissario, dottore Vella, commissario che doveva commissariare i vari sindaci che non hanno provveduto ancora al versamento dei relativi costi al lato. Abbiamo avuto un incontro con il Presidente del Consiglio che ci aveva assicurato un incontro con i capi gruppo. All'alato odierna, prima di venire qui, ci siamo sentiti telefonicamente, almeno ha sentito il collega Ferro della CGL. Ancora non se ne ha fatto niente, ma considerate che i dipendenti di tutta la provincia sono senza soldi, le banche chiamano, i fornitori reclamano. Adesso siamo qui davanti alla Prefettura e spero di essere ricevuto assieme ai colleghi della Sua Eccellenza del Prefetto per chiedere intanto di dichiarare l'inadempienza dei vari sindaci perché non hanno provveduto alla data odierna, solamente dal 2005 stiamo parlando, a formare, a organizzare l'SRR. Apprendiamo stamattina, sempre dal Presidente del Consiglio, che il nostro sindaco e quindi tutta l'amministrazione comunale ha chiesto alla Regione qual era lo stato giuridico dei dipendenti. Veramente assurdo, penso a mio modesto avviso, perché ci sono delle normative dal 2005, ci sono dei contratti firmati dai dipendenti e dai sindaci dell'epoca, stiamo parlando del 2005-2004, sottoscritti dai vari segretari comunali e successivamente con un atto deliberativo. Nel 2015 salta fuori che il nostro sindaco ancora non sa qual è il nostro stato giuridico. Basterebbe per ridurre i costi, chiudere lato di via salvo d'acquisto, richiamare i propri comandati, i propri impiegati che costituiscono un costo esagerato per lato, mentre per gli altri, compreso il sottoscritto, che abbiamo sottoscritto un contratto, basterebbe farci rientrare, come dice la normativa, che in caso di chiusura del lato, di fallimento o di quant'altro, era necessario farci ritornare ai comuni e perché i consigli comunali avrebbero lasciato a disposizione dei posti di lavoro, cosa che il 2015 non c'è. Vorremmo chiedere, sarà magari una cosa assurda al signor Perfetto, che possa intervenire presso i direttori di banca perché possano congelare i mutui di tutti questi dipendenti che una parte ancora purtroppo lavora, sono gente tranquilla, noi non facciamo cose eclatanti, ci limitiamo solamente a dimostrare e a fare capire alla cittadinanza che cosa stiamo vivendo sulla nostra pelle. Sequestrati 160 grammi di hashish, un giovane nisseno denunciato. I poliziotti della sezione volanti di Caltanissetta hanno fermato e perquisito in via Leone XIII un nisseno di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine. Nelle parti intime il ragazzo aveva occultato due panetti di hashish, uno intero di 101 grammi e un altro smezzato di 49,43 grammi. Sospettando che il quantitativo di fumo nascosto negli slip non fosse soltanto quello, i poliziotti hanno perquisito l'appartamento di via Malta dove abita il nisseno, sequestrando altri 7,86 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un cutter con tracce di stupefacente e delle banconote. Il giovane, dopo essere stato fotosegnalato alla polizia scientifica, è stato denunciato dalla procura di Caltanissetta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con un'ascia irrompe in un supermercato, arrestato un gelese. Attimi di terrore ieri sera a Gela, dove un pensionato con precedenti penali, Orazio Palumbo, di 64 anni, ha fatto irruzione armato di ascia all'interno di un supermercato di via Venezia, seminando il lepanico tra i clienti che affollavano il punto vendita. Qualcuno è riuscito a dare l'allarme al 113 e diverse volanti della polizia sono intervenute per fermare l'uomo, che si è subito scagliato contro gli agenti, quali, dopo una furibonda colluttazione, sono riusciti a disarmare Palumbo, che si era anche rifiutato di fornire le proprie generalità. Tre agenti sono rimasti feriti durante il tentativo di neutralizzare l'uomo, che prima è stato sedato dai medici del 118 e dopo è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale, porto abusivo d'arma. Adesso è rinchiuso in carcere in attesa di chiarire i motivi che lo hanno spinto ad impugnare l'ascia, brandendola minacciosamente contro i clienti. Aveva accoltellato l'ex suocero, arrestato un giovane di Niscemi, perché la condanna è divenuta definitiva. Aveva accoltellato l'ex suocero nel centro di Niscemi, sotto gli occhi della moglie e del nipote della vittima, procurandogli lesioni agli occhi. Presenti anche alcuni commercianti e passanti. Nessuno dei due contendenti, suocero e genero, da anni riusciva ad accettare la prematura scomparsa della giovane ragazza, rispettivamente figlia e convivente dei contendenti. Il fatto era avvenuto nell'ottobre 2013, nel centro di Niscemi, nei pressi di un negozio di abbigliamento. Allora gli agenti del commissariato della città erano intervenuti in quanto avevano notato tre persone che stavano litigando violentemente fra loro. Ed uno di essi, un ragazzo, portava con sé un coltello a serramanico, che ha usato contro il più anziano, l'ex suocero. Ad avere la peggio è stato l'anziano, mentre l'aggressore Paolo Maria Bennici, 29 anni, si era ferito al dito e in quell'occasione è stato arrestato in flagranza di reato. La vicenda nasceva perché ognuno attribuiva all'altro la responsabilità della morte, avvenuta alcuni anni prima della figlia dell'accoltellato, nonché allora convivente di Bennici. Morte avvenuta in un contesto di spaccio di stupefacenti, quando la ragazza, per evitare il controllo della polizia, aveva ingoiato degli ovuli di droga, che le avevano causato la morte per avvelenamento. Il pregiudicato è stato posto agli arresti domiciliari, dove dovrà scontare la pena di un anno e 17 giorni. Il reato di cui deve rispondere è violenza privata e lesioni aggravate in concorso, nonché porto abusivo e luogo pubblico di oggetti atti ad offendere. Sei arresti in provincia di Agrigento, effettuati dai carabinieri, tre uomini di Siculiana, sono sottoposti a detenzione domiciliare, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Si tratta di Maurizio Santamaria, 39 anni, Fabrizio Santamaria, 32 anni, e Gianni Santamaria, 33 anni, tutti noti alle forze dell'ordine. I tre soggetti, presso le rispettive abitazioni, dovranno scontare un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, in quanto riconosciuti responsabili in concorso dei reati di falsità e scrittura privata, truffe e ricettazione, commessi a Siculiana tra i mesi di marzo e maggio del 2011. Prolungate e complesse indagini sulla vicenda erano state condotte dai carabinieri delle stazioni di Siculiana e Porto Empedocle, concluse nel giugno 2012. Un provvedimento di arresto, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Merese, è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Cammarata, a carico di Matteo Marino, 47 anni del luogo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso ed è stato tradotto nel carcere di Contrada Petrusa, da Grigento. E i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Canicatì hanno arrestato Alessandro Milazzo, 36 anni del posto. I militari dell'arma, nel corso di una perquisizione seguita nell'abitazione di Milazzo, hanno rinvenuto e sequestrato quasi 6 grammi di eroina e un bilancino di precisione, nonché materiali donnei, al confezionamento delle dosi di droga. Dopo il sequestro di quanto rinvenuto, i carabinieri hanno così dichiarato è stato d'arresto l'uomo, che, espletate le preliminari formalità di legge in caserma, è stato accompagnato ai domiciliari. Un uomo di Santa Margherita Bellice è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Si tratta di Salvatore Oddo, 47 anni del luogo, che deve spiare quasi 6 mesi di reclusione per un furto in abitazione commesso proprio a Santa Margherita Bellice il 21 gennaio del 2010. L'arrestato è stato quindi tradotto dai carabinieri nel proprio domicilio per scontare la pena. Il giudice del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto l'archiviazione per quattro medici dell'ospedale San Giovanni di Dio indagati per la morte della sessantenne agrigentina Francesca Dulcetta, morta di infarto in ospedale la vigilia di Natale del 2011, ma secondo le denunce del nipote potrebbe essere deceduta a causa della somministrazione eccessiva e smisurata di farmaci antidepressivi. Posizione archiviata per i medici Maria Concetta Morsello, Rosa Costa, Antonio Marotta e Claudia Mossuto. Disposte nuove indagini per Giuseppe Virone, il medico che aveva in cura la donna sofferente di disturbi psichici. Il medico, secondo quanto denunciato dai familiari di Dulcetta, si sarebbe limitato a prescrivere dei farmaci sconsigliando il ricovero in ospedale definito del tutto superfluo. Uno dei nipoti invece ha deciso di trasportarla ugualmente in ospedale. Evento Bain a Caltanissetta. Si tiene oggi a Caltanissetta nella sala conferenze dell'hotel San Michele l'evento Bain decima edizione Corso di Neuroradiologia protocolli e casistica ragionata dell'Associazione Italiana di Neuroradiologia. Responsabile scientifico del corso, il dottor Giuseppe Vaccaro. L'importanza di questo evento? Allora, questo è un evento importante perché intanto è un corso interattivo nel senso che si presentano dei casi clinici particolari. Sono patologie tumorali, patologie infiammatorie, patologie vascolari e si discutono i casi, l'iter diagnostico, quali sono le indagini da fare, quale deve essere, diciamo, l'iter, se prima fare tac, risonanza. Quindi serve proprio a un impatto pratico per tutti i radiologi che partecipano, i radiologi siciliani. Abbiamo avuto un buon successo di presenze perché c'è sete di apprendimento. Come ho già detto altre volte, ormai tutti gli ospedali siciliani sono dotati di apparecchiature RM ad alto campo. Quindi sono delle bellissime apparecchiature, sono delle Ferrari e bisogna ora preparare i piloti per prendere il massimo da queste apparecchiature. Oggi si conclude quattro giorni di formazione. Già dal 26, da martedì, martedì e mercoledì c'è stato un corso per tecnici di radiologia perché anche loro sono importanti. Bisogna lavorare assieme per arrivare a un risultato buono per il paziente e una buona diagnosi. Lei prima ha dichiarato che è soddisfatto sia di questo corso di aggiornamento e sia dell'attività che viene svolta all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Beh, certo. Sono soddisfatto perché ho visto che il format di questo corso è un format assolutamente dinamico e tra altre cose stimola molto i partecipanti che in buona parte sono dei partecipanti giovani quindi che possono attingere in un percorso su un caso clinico quella che è l'esperienza dei più anziani. Ritengo che questo sia il format più adeguato per trasmettere informazioni e per stimolare un ragionamento che porti ad una diagnosi corretta e quindi sono i format che secondo me sono di gran lunga superiori al format dove c'è una relazione frontale anche da un luminare però non viene recepita in modo così dinamico dall'uditorio ecco perché sono contento del format. Per quanto riguarda l'attività della nostra azienda con l'attività di risonanza magnetica in particolar modo al Sant'Elia e certo c'è una bella struttura abbiamo due belle risonanze abbiamo dei professionisti che sono assolutamente adeguati in condizione di far lavorare bene queste macchine quindi sono quelle cose su cui bisogna puntare per rilanciare quella che è la credibilità della nostra struttura nei confronti della popolazione. La neuroradiologia oggi che progressi ha fatto? La neuroradiologia è uno dei campi e una delle discipline che ha subito negli ultimi anni un'evoluzione enorme per due motivi da una parte l'avanzamento tecnologico siamo partiti con indagini che ormai sono state completamente abbandonate oggi abbiamo risonanze magnetiche che oltre a mostrarci una forma del tessuto cerebrale con le sue patologie in maniera molto dettagliata ci consentono addirittura di studiare il funzionamento del tessuto cerebrale quindi uno studio morfologico e funzionale accanto a questa parte esclusivamente diagnostica si è sviluppata tutta la parte di neuroradiologia interventistica per cui il trattamento di patologie endovascolari quindi navighiamo nei vasi raggiungiamo le malformazioni cerebrali vascolari e le chiudiamo dall'interno interventistica anche vertebrale con trattamenti diretti sulle vertebre o sui dischi per trattare crolli vertebrali o patologie discali quindi un avanzamento tecnologico diagnostico e un avanzamento tecnologico terapeutico anche quest'anno a Villa Medeo a Caltanissetta Pompieropoli 2015 a Villa Medeo a Caltanissetta si sta svolgendo la settima edizione di Pompieropoli organizzata dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Caltanissetta i bambini partecipano attivamente conoscono l'importante attività dei Vigili del Fuoco e proprio questo è lo scopo noi ci siamo voluti far conoscere prima andando nelle classi e gli abbiamo raccontato e gli abbiamo descritto in modo giocoso quali sono i problemi quali sono i pericoli che si incontrano in casa che poi sono quei pericoli che si incontrano nel mondo perché noi viviamo in un mondo pericoloso e i ragazzi in crescita devono conoscere i pericoli noi li abbiamo accompagnati in un percorso nel quale abbiamo preso in esame i pericoli di natura elettrica oppure semplicemente l'uso dei veleni in casa che abbiamo un po' tutti nelle case per fare le varie cose in casa dalla pulizia alla disinfezione e così via ma l'utilizzo del gas l'importanza di essere attenti in questo e ora sono qui hanno superato una selezione perché per arrivare qua noi abbiamo formati formati che parolone abbiamo fatto quattro chiacchiere con questi ragazzi ma erano più di mille anche per motivi pratici qui non potevamo ospitarne mille e quindi abbiamo invitato loro a fare dei disegni gli elaborati grafici che hanno presentato sono stati giudicati da una commissione come i migliori e quindi sono stati invitati a partecipare a questa giornata questa festa e con loro disegni hanno dimostrato di aver capito i nostri insegnamenti giocosi che tipo di esercitazione stanno svolgendo questa mattina? stanno svolgendo una esercitazione adatta alle loro capacità iniziano con il salto del muro poi passano nel ponte tibetano a travese equilibrio e spengono un piccolo fucherello che noi accendiamo col gas con l'accendino e loro lo spengono con l'acqua nebulizzata e passano nel tunnel e poi alla fine il salto alla scala sul cuscino confiabile che è il massimo che si possa avere come soddisfazione e alla fine il presidente dell'associazione nazionale vigile fuoco sezione di cartanissetta consegnerà loro un piccolo diplomino di piccolo pompiere insomma diciamo per conorare questa giornata e adesso parliamo di salute bere più di 4 caffè al giorno fa male nuove linee guida sul consumo di caffè arrivano direttamente dall'EFSA Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare ebbene i ricercatori hanno stabilito che berne più di 4 tazzine al giorno può essere pericoloso per la salute soprattutto per le donne incinta e i giovani sotto i 18 anni tra gli effetti nocivi di breve termine su adulti e bambini possono verificarsi disturbi del sistema nervoso centrale come sonno interrotto ansia variazioni del comportamento a lungo termine il consumo eccessivo di caffeina è stato associato a problemi cardiovascolari e in donne in gravidanza a un ridotto sviluppo del feto l'agenzia ha quindi raccomandato che vengano stabilite le dosi giornalieri massime oltre le quali l'assunzione di caffè diventa un potenziale problema se assunta oralmente la caffeina viene assorbita rapidamente e completamente dall'organismo gli effetti stimolanti possono insorgere da 15 a 30 minuti dopo l'ingestione e permangono per alcune ore negli adulti il tempo che l'organismo impiega è eliminare il 50% della caffeina varia a seconda di fattori come età peso corporeo gravidanza assunzione di farmaci e stato di salute del fegato e anche per oggi abbiamo concluso vi lascio alla rubrica salute e benessere che oggi vi parlerà di alcol grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione vi ricordo di seguirci sul nostro sito tcsnews.tv l'alcol in eccesso fa male ma ancora di più quando si è avanti con gli anni a farne le spese e soprattutto il cuore una ricerca pubblicata su Circulation ha appena dimostrato che bere ogni giorno due o più drink alcolici ha effetti negativi sul sistema cardiovascolare soprattutto per le donne lo studio ha preso in considerazione oltre 4.000 persone con un'età media di 76 anni mettendo a punto in relazione il consumo giornaliero di alcol e la salute del cuore prima osservazione quanto più le persone bevono tanto più si osservano alterazioni della struttura e della funzionalità cardiaca seconda osservazione gli uomini che bevono più di 14 bicchieri alla settimana cioè due al giorno presentano una dilatazione del ventricolo sinistro la parte del muscolo cardiaco che pompa il sangue terza per le donne anche un consumo moderato di alcol determina un'alterazione della funzione cardiaca numerose altre ricerche hanno dimostrato però che il vino a piccole dosi può avere un effetto benefico sull'organismo ecco il problema è proprio quello delle dosi e quando si eccede i danni superano i benefici un'esercizio Autore dei sovrapposti